Bene, gentili signori e gregli signori, vi saluto tutti molto corialmente a questa nostra prima conferenza del 2020. Come vado sempre a ripetere in queste occasioni, la Sopraccenerina organizza in anni normali due conferenze all'anno, una in primavera, una in autunno. Quest'anno per evidenti motivi abbiamo dovuto rinviare la conferenza che era prevista con i nostri ospiti il mese di aprile, mi sembra, ma ecco mi fa piacere che questa sera la possiamo organizzare e che voi siate presenti e che possiamo anche rispettare le normative di distanziamento sociale eccetera eccetera. Sempre più questa sala ci viene richiesta, questa sera abbiamo un'ottantina di sedi, ecco di più non ne mettiamo, in tempi normali arriveremo a oltre 200, ma è così e mi sembra anche giusto rispettare queste regole. Di solito quando organizziamo queste conferenze il nostro coordinatore Paolo Spallutto mi ha sempre il compito di fare l'introduzione quindi io ogni volta mi devo inventare qualcosa come ho cercato di fare anche questa sera nella speranza di non tediarvi troppo perché il tema il tema è impegnativo quindi quello di uomini e montagne. Inizierei dicendo che l'uomo ha sempre cercato di andare oltre, di verificare quali sono i propri limiti, di testare se stesso, quello che cerchiamo di fare noi più o meno quotidianamente. Non fosse stato così se l'uomo non avesse sempre ricercato i propri limiti, ecco che le civiltà non si sarebbero sviluppate e magari noi questa sera non saremmo qui a parlare di uomini e montagne. Quindi prima di tutto un grazie ai nostri graditi ospiti per essere qui con noi e per aver sviluppato delle passioni che questa sera sono disponibili a condividere con tutti noi. Ci parleranno senz'altro anche loro dei limiti fisici e psichici di imprese di questo genere, di che cosa si sente dentro, di quali sensazioni si hanno. Noi tutti come dicevo prima testiamo i nostri limiti nelle attività più disparate, anche in quelle quotidiane ricorrenti. Ognuno evidentemente a dipendenza delle proprie caratteristiche fisiche, mentali, delle proprie attitudini, delle proprie conoscenze. Ci sono però attività come quella di notaris che vanno un pochino più in là di quello che noi ci possiamo immaginare, che chiedono qualcosa di più all'essere umano. Si inizia una spedizione in montagna, come fa notaris, ci si mette in cammino per una via insidiosa, come fa Dozio, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Costi quel che costi e per raggiungere l'obiettivo devi superare sfide indicibili con te stesso. È chiaro che potresti anche interrompere l'impresa, come fanno in molti ai primi segnali di difficoltà, ma questo non rientra evidentemente nella forma mentis di chi affronta sfide di questo genere. Affrontarle richiede una preparazione meticolosa, richiede coraggio, un equilibrio fisico e mentale che ti devi forgiare. È chiaro che ci sono persone fisicamente e psicologicamente più o meno predisposte per certe imprese. A dipendenza di questa predisposizione, ognuno cercherà pian piano i propri limiti e si porrà degli obiettivi da raggiungere. Notaris e Dozio si sono posti obiettivi molto ambiziosi. Sarà interessante sentire dalla loro voce che tipo di preparazione hanno dovuto mettere in cantiere e quali sono state le loro sensazioni. Quando mettiamo il nostro corpo e la nostra psiche sotto pressione, abbiamo tutti delle sensazioni che possono spaziare dalla gioia infinita al dolore fisico, dal blackout totale del cervello concentrato esclusivamente sullo sforzo ai pensieri che volano. È insomma tutto un susseguirsi di sensazioni che poi ci portiamo dentro nei nostri ricordi di quei momenti. Ognuno di noi starà pensando ora a proprie sensazioni personali di questo genere, ai propri limiti, e ognuno ci potrebbe evidentemente raccontare qualcosa del suo vissuto. Lo faccio anche io brevemente e arrivo alla conclusione. Io mi sono cimentato a testare i miei limiti come maratoneta ma della domenica. Attività che comunque richiede una certa preparazione fisica e mentale, anche se la fai solamente per il piacere di farla senza alcuna ambizione. Corsi la mia prima maratona a New York, famosa maratona di New York, ci sono un paio di maratoneti, la conoscono, nel 1998. Avevo già superato i 40 anni, quindi non ero un giovincello. Fui stimolato da colleghi che l'avevano fatta l'anno prima e quindi io mi dissi beh se l'hanno fatta loro perché non posso farla anch'io. Mi preparai ma senza alcuna cognizione e la mattina della domenica, del primo novembre 1998 ero alla partenza, con sentimenti un poco di euforia ma anche con la consapevolezza che stavo affrontando qualcosa che andava oltre i miei limiti conosciuti perché io non avevo mai corso nella mia vita per 42 chilometri. Orbene le sensazioni furono tante e i ricordi di questa prima maratona, ne seguirono poi altre 20, malgrado tutto sono positivi, sebbene la sofferenza fisica e psichica fu notevole. Fu grande ad esempio lo sforzo per varcare il ponte di Queensborough che divide il quartiere di Queens dall'isola di Manhattan. Il ponte è in salita e siamo al ventesimo chilometro circa, le gambe cominciano a farsi sentire, dentro di te pensi che ti rimangono ancora più di 20 chilometri da percorrere, ti chiedi come farai e chi te l'ha fatto fare. Ti dici io non farò mai più una maratona. Non vuoi però desistere perché ci hai messo il cuore e l'anima nel preparare questa impresa e vuoi raggiungere il tuo obiettivo. Poi improvvisamente hai superato il ponte, c'è una fiumana, perché è vero, è così, di spettatori sui due lati della First Avenue che ti incita a squarciagola. Non puoi fermarti, ti sembra quasi di essere un campione olimpico. Le gambe volano, il cuore accelera, devi fare un po' attenzione a non andare oltre i limiti del tuo motorino, perché ecco lì i limiti ci sono. Ti commuovi quasi perché il momento, le sensazioni, sono indimenticabili, inebrianti. A voi ora farci partecipi delle vostre di sensazioni. Grazie mille. La facciamo rivedere. Buonasera a tutti. Avete capito che dei quattro l'unico che non c'entra nulla con lo sforzo fisico sono io. Ho partecipato alla maratona del gnocco alla matriciana a Rieti come secondo classificato ed è stata una delle prestazioni migliori. Però, detto questo, sono molto contento di essere riuscito insieme alla sopraccenerina a mantenere in vita Sessi Incontri. C'è una novità che ovviamente voi non avete ancora raccolto, ma tutte queste telecamere che vedrete perché da adesso ed ora in poi Sessi Incontri sarà anche televisiva, quindi sarà possibile poi rivedere l'incontro in internet. Questo anche per adeguarci a Covid, perché temo che ce lo terremo tra le simpatici Zebedei almeno fino a settembre 2021 e quindi faremo ancora i Sessi Incontri, ma li renderemo anche digitali, avendo quindi un panel di possibili ascoltatori molto più ampio. Quando ho immaginato questo Sessi Incontri, caro Romolo, ero ovviamente morbidamente seduto sul divano, che è la posizione nella quale vengo trovato maggiormente dalla mia famiglia, e mi sono goduto l'epopea di Aramis Dozio con la via Altair. Tra l'altro complimenti, ho piacere di avere in sala registra e fotografo, poi una domanda la facciamo, ma veramente meritato un applauso perché è stato un prodotto televisivo straordinario e che anche l'RSI ha avuto il coraggio di mandare in prime time. Questo veramente fa onore alla nostra televisione, a cui auguriamo ogni bene in questi momenti non facili. E lì mi è venuto in mente di mettere insieme Diavole e Acqua Santa. Cioè io, la cosa che ho colto che mi ha fatto sorridere maggiormente di Aramis è stato non solo il coraggio, la voglia, la preparazione, ma anche alcune nutrite madonne che ha tirato durante, che non sono state neanche censurate durante. E ho immediatamente pensato poi di invitare quello che per noi in Canton Ticino è l'uomo delle montagne, che è Romolo Notaris. Quindi di mettere insieme due persone come voi. Di Romolo Notaris, dopo lo intervistiamo, abbiamo deciso Aramis e io in comune accordo che la sedia centrale sia la tua, caro Romolo, perché è talmente tanto da raccontarci. Io questa sera farò sì il moderatore, ma mi rendo conto di avere al mio fianco un professionista, per cui farò alcune domande. Vorrei far vedere un brevissimo video su di te, che è forse la cosa migliore. La biografia l'avete letta di Romolo e poi tante cose le conosciamo questa sera. Abbiamo fatto una piccola clip di un minuto di tutte le cose meravigliose che ci hai mandato. Non mi dire che non c'è dentro tutto, ma avremmo dovuto fare un film di un'ora per raccontare la tua vita. Quindi è una micro clip di un minuto su di te. Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E a questo punto volevo anche dare un contributo ad Aramis evidentemente. Abbiamo fatto un po' più fatica a trovare immagini così epiche per quanto riguarda il tuo percorso alpinistico, quantomeno. Quindi anche con l'aiuto della tua redazione siamo riusciti a dare un contributo a un giornalista che ci allieta e insomma la cui capacità è ormai da 30 anni una garanzia in RSI e la tua professionalità è dimostrata. però insomma quando ho detto ai miei dobbiamo montare un film veramente epico di Aramis Dozio è venuto questo. Buonasera a tutte e tutti voi, l'informazione sportiva si apre con la notizia relativa alla rinuncia da parte... Buongiorno anche da parte nostra Mauro buongiorno mi sembra un... Dalla pista alla pasta eccoci qui nel Regno del Pizzocchero, siamo in un ristorante famoso di Teglio dove i pizzoccheri si preparano ancora in modo artigianale. Parcazioni anni sessanta un po' come il sindaco. Allora questo non è lo sci di Michaela Schifrin come potete vedere, è lo sci del nostro operatore. Abbiamo la carne! Abbiamo la carne! Bene, invito allora Romolo Notaris e Aramis Dozio ad accomodarsi con un applauso. Ben arrivati! Noblesse oblige! No, ma pensavo che eri qui tu eh! Eh no! Mi ha detto Aramis che avrei sbagliato troppo! Quindi... Buonasera! Buonasera! Senti, partiamo con lui direi! Mi sembra giusto! Un papà micidiale! Un papà appassionato delle montagne ticinesi che mi ha permesso o di odiare o di armare la montagna perché all'età di 7-8 anni mi faceva camminare magari la domenica 12 ore e quindi arrivavo a scuola lunedì e mi addormentavo sul banco naturalmente e quindi la montagna potevo odiarla o amarla. Io ho scelto di amarla e l'amo ancora tutt'oggi. Il tuo papà aveva la responsabilità della capanna del Monte Bar? Il mio papà era guardiano della capanna del Monte Bar e io ho imparato a sciare al Monte Bar ancora con le pelle di foca e si portavano gli scispalla e ho imparato lì a sciare all'età di 6 anni. E questo ti è poi venuta la passione o era proprio qualcosa che facevi perché faceva parte della tua famiglia? Cioè dove scatta la passione e dove invece era qualcosa che era nel tuo quotidiano? La passione nasce proprio con gli sforzi che mi ha fatto fare mio papà ma la vera passione nasce quando avevo 9 anni e praticamente le scuole avevano portato gli scolari della scuola elementare a vedere il film del K2 degli italiani, della conquista del K2 degli italiani al cinema super di Lugano. Io avevo 9 anni e quando sono uscito da lì, dopo aver visto questo film, che era un film mitico e storico e non rimane ancora tutt'oggi, ho detto diventerò alpinista. 9 anni. 9 anni. E tu Aramis, a 9? A 9 anni, beh, giocavo un po' a pallone, cercavo di andare in bicicletta come mio padre ma non ero in grado e quindi ho preferito correre e camminare. E poi cominciavo già a pensare che sarei diventato un grande giornalista perché commentavo le partite in giardino mentre giocavo con mio fratello a pallone e praticamente lui smetteva puntualmente dopo 10 minuti perché mi diceva, basta parlare, gioca. E io dicevo, sì ma io voglio commentare quello che sta succedendo perché comunque il dribbling, il gol, così insomma. Ecco, allora io ho iniziato presto a fare il telecronista, già in casa. C'è una cosa che mi ha molto legato a te quando abbiamo iniziato a parlarci per venire questa sera. La mia idea era proprio di mettere di fianco qualcuno che, io non credo, correggimi se sbaglio, tu avessi grandissime esperienze di... Poi ho insegnato sci per tanti anni, sono amante della montagna però un escursionista direi piuttosto della domenica e un discreto cercatore di funghi, niente di più. Come succede che ti venga offerto di andare a fare questa esperienza? Come accade? Accade che ho un amico un po' spostato di testa ma un brillante professionista in televisione che è il cervello della Via Idara, Stefan Chiesa. A cui vogliamo dedicare un applauso perché è veramente... Bravo! Questo personaggio un po' psicopatico ma estremamente abile ha iniziato a chiamarmi chiedendomi se volevo davvero, se mi interessava partecipare a questa escursione. Io ho detto ma non penso che sia proprio l'ideale per me, ma tu devi venire e fare il conduttore, sì ma devo camminare più di 100 chilometri in 10 giorni, per di più devo arrampicarmi su delle vette che non sono proprio così, delle cosucce da nulla, non sono colline, soprattutto la Via Alta della Verzasca che è davvero impegnativa per uno che non è abituato. È vero? Beh sicuramente, bisogna essere impegnati e poi devo dire che le nostre montagne ticinesi non sono da sottovalutare per niente e la Val Verzasca lo dimostra anche nel film, che ho trovato molto bello e ho seguito anche con Anna parecchie serate di questo documentario e ho anche mandato i complimenti perché trovo che è stato fatto molto bene. Sì, ritorniamo quindi... L'idea che ha mandato a Giorgio Matasci che è un uomo di montagna della Valle Verzasca e che come dice ben lui le duma sass la Verzasca, cioè tu a un certo punto non c'è più, c'è un panorama splendido però veramente trovi solo rocce, alcune che ti arrivano anche sulla testa, magari anche se sono piccole e poi però ci sono precipizie a destra, a sinistra, insomma davvero lì se non sei abituato oppure come ho fatto io, in modo penso abbastanza umile e intelligente, spero comunque, ho chiesto di avere una guida a Tosbalestra, è stata la mia guida per quei tre giorni, per quelle tre tappe, sai sono dei camoci questi personaggi qua, vanno sulle montagne con una leggerezza, come magari io, nuoto ad esempio, oppure giocavo a pallone, ecco loro si arrampicano e sono leggeri, non c'è mai fatica, non vedi mai veramente lo sforzo. E invece in alcuni momenti lo sforzo era piuttosto importante e impegnativo. Torniamo da te, quindi cresci, a nove anni esci da questo cinema e poi che cosa accade ancora? E poi accade che io ero legato anche a mio papà per lo sci, mio papà desiderava che io diventasse un bravo sciatore soprattutto, anche fare un po' di competizione e qualcosina ho fatto negli anni a 13, 12, 13, 14 anni. E poi invece il mio pensiero era sempre legato alle scalate, alle montagne vere, no? E a 14 anni dico a mio papà non vengo più in montagna con te, vado da solo. 14, ok. E da lì praticamente nasce la mia passione per l'arrampicata e lì i denti della vecchia sono stati il mio giardino della mia gioventù, dove ho sviluppato un po' tutta la tecnica avendo la fortuna di incontrare anche qualche scalatore molto più bravo di me e che mi ha dato possibilità di imparare molto, no? Uno era Aldo Fontana che era di Varese ed era veramente bravo. E devo dire che da lì è nata la mia passione fino all'età di 19 anni, dove già da giovane eravamo andati al Badile, sulle Alpi, al Cervino, in Dolomiti, a fare delle scalate che a quel tempo erano scalate anche impegnative. Eravamo un po' dei promotori giovani, no? E da lì nasce veramente la grande passione che poi si ferma all'età di 19 anni perché... Dove vai a giocare a poker? Dove vado a Ginevra e non vedo più le montagne per 3 o 4 anni, ma ho visto tanti night club e ho giocato tanto a poker. Bene, anche lì sono avete da raggiungere, non ci sono dubbi, ma vorrei fare una domanda prima di poi continuare, che è il tema della sicurezza. Eravate sicuri o eravate spericolati? Eravate attenti o eravate... Beh, ma io penso che quando si è giovani, come lo siamo stati tutti, la morte non fa paura. Perché proprio... Eravamo spericolati, bisogna dire la verità. Perché a me bastava, quando ero soprattutto in quell'età della gioventù così, dirmi lì non si va, che il giorno dopo c'ero. E quindi eravamo degli spericolati. Mi ricordo, ho finito il primo corso di roccia ai Denti della Vecchia e i miei istruttori, che erano anche bravi, mi hanno detto guarda che però lì non si tocca, è la via più difficile dei Denti della Vecchia. Per poterla fare dovrei tornare l'anno prossimo e imparare un po' di più. Dieci giorni dopo l'ho fatta. E quindi eravamo degli spericolati. E tu invece, nel rapporto con la sicurezza barra il pericolo, le emozioni che hai passato in questi dieci giorni? Ma allora, diciamo che io per fortuna sono sempre stato comunque un appassionato di sport, ne ho sempre praticato tanto, quindi sono arrivato, perlomeno non proprio così, dal nulla. Però senza una vera e propria preparazione, ho cercato sì di prepararmi nei boschi di Vernate, ma probabilmente non bastava correre nei boschi e fare un po' di dislivelli per poter essere veramente pronti. Poi in giugno con Stefano abbiamo fatto la coniora Efra, che era una delle due tappe più complicate. È andata bene, a parte la discesa verso Frasco. Dopo aver fatto comunque sette ore, poi c'è ancora da fare, comunque, questo qui è volato via, questo ancora. Ancora? Eh, ma è dispettoso, eh. Adesso glielo infogliamo. Se si sente posso parlare anche un po' più ad alta voce, se riuscite a sentire non c'è problema. Lo ripariamo. Comunque, dicevo, un po' di preparazione c'è stata e dopo aver fatto questa tappa, mi sono convinto che potevo partecipare a questo trekking. Però quella era la tappa di un giorno, mentre poi ci siamo confrontati con dieci giorni consecutivi, più di cento chilometri. Dicono tutti cento chilometri, ma sono molti di più alla fine. Anche perché poi ogni volta che giri, che giri, che giri, è sempre più lontano, non so se ti capitava, Romolo. Però a un certo punto ti dicono, guarda che lì dietro c'è la capanna, allora tu sai, cominci a rilassarti, vabbè, ancora moretta. Poi c'è la capanna che è mia. Ma che è mia la capanna? Ma che mai? Non la vedi mai? La vedi solo all'ultimo momento quando veramente te la trovi davanti, gli ultimi 500 metri. Vabbè, comunque, stavo dicendo, il rapporto sicurezza, io l'ho avvertito durante quella prova, che sarebbe stato complicato, che non avrei dovuto avere dubbi, che non puoi avere le vertigini se vuoi fare un'escursione di questo genere, meglio stare a casa e guardarla in televisione. Per fortuna non ho le vertigini, però la sicurezza l'ho sentita, l'ho avvertita, camminando con Atos Balestra, camminando con Stefan Chiesa, con Daniele. Loro sono dei camosci, sono abituati a camminare su queste vette, quindi loro mi hanno dato comunque tranquillità anche durante il trekking. La mia storia è un po' simile a quella di Daniele che raccontava prima, solo che invece del pubblico noi avevamo i camosci e gli stambecchi. Una buona differenza. Senti, prima di continuare con la storia di Ro, c'è una domanda che hai proprio qui che avevi voglia di fargli? Io penso che potremmo stare qua un paio d'ore, con le domande che vorrei fare a Romano Notaris. Una legata forse ancora un po' alla sicurezza, alla paura, se in quei momenti, soprattutto quando hai fatto queste vette più alte, se non ci sono mai dei momenti dove hai avuto dei dubbi, dove hai detto adesso forse è meglio non salire, perché danno la tormenta a 6.000, 7.000 metri, forse è meglio stare qua, forse è meglio tornare a casa. Ecco, non ti è mai passato per la mente oppure sì e poi dopo cosa si fa? Si tergiversa, si esita, si ragiona ancora. Come si ragiona in quei momenti? Io penso che quando tu parti per una spedizione malayana, per modo di dire, oppure anche in Patagonia o nel giro del mondo, dove sei veramente isolato, devi assolutamente far fronte un po' a tutte le problematiche che nella tua testa girano. E quindi aver paura per me è anche un segno di saggezza, perché in fondo è un po' la paura che ti fa a un dato momento dire non andiamo oltre. E non andare oltre tante volte vuol dire essere fortunato di tornare a casa. Questo è un po' un campanello d'allarme che ogni alpinista che diventa vecchio, penso che nella sua vita l'ha avuto parecchie volte, perché di solito si impara quasi sempre di più dalle sconfitte, dal non raggiungimento della vetta e aver dovuto rinunciare che tante volte dalla gioia di essere arrivato in cima. Però penso che il fatto di saper rinunciare è anche segno di saggezza e di esperienza che hai fatto durante tutta la tua vita e penso che sia una cosa molto molto importante saper rinunciare. Un'altra cosa Paolo, scusa. E la scomparsia di alcune persone care, i lutti che si vivono sulla montagna, come li hai metabolizzati, come sei riuscito comunque a superare. È nel 71 che tu torni da Ginevra, ritrovi cinque amici e riprendi. Se perdessi un amico io penso che, non so se rifarei ancora. Era proprio la domanda che volevo stoppare. No, no, ma è un tema che ho condiviso con Romolo che credo sia molto interessante per noi capire. Cioè il dolore della perdita dei quattro amici con i quali tu avevi ricominciato al tuo rientro da Ginevra. Beh, lì comincia un po' in fondo la mia storia vera verso la montagna, che in fondo mi ha fatto capire che la montagna comunque con la montagna non si poteva scherzare, bisognava cercare di fare le cose seriamente. E devo dire che la perdita di... Noi eravamo in cinque, io torno da Ginevra, ero da parecchio tempo che non frequentavo più Levette, però ero comunque conosciuto come giovane. E tutti i miei amici che ho avuto fino all'età di 19 anni, quando sono tornato si sono avvicinati e ha detto devi tornare con noi. Come prima ero sempre quasi quello che arrampicava davanti, anche lì siamo tornati un po' nelle stesse metodiche. E partiamo per il Monte Bianco, prima abbiamo fatto delle altre salite e purtroppo lì è successo una grande disgrazia, che eravamo in cinque e sono tornato da solo. Ho pagato Dazio, perché in un primo momento ho cercato di reagire con tutte le mie forze possibili e immaginabili, ma purtroppo dopo tre o quattro mesi sono entrato in un burnout incredibile che è durato due anni. E lì ho sofferto tutte le pene dell'inferno, ero troppo giovane, perché avevo 24 anni. Però mi ha insegnato anche che in fondo per tornare alla vita devi forse tornare da dove sei venuto. E quindi è ancora la montagna di nuovo che mi ha portato fuori. E all'età di due anni dopo decido di diventare guida alpina e di fare il professionista della montagna. Purtroppo dopo nel professionismo della montagna, purtroppo la montagna tante volte dà dei dispiaceri incredibili, perché è un'attività, è una passione che ti porta spesso e volentieri, soprattutto anche ai professionisti, vicino a delle incognite che contro la natura non si può andare. E quindi ne ho perso anche tanti altri. Purtroppo non è l'abitudine, ma ci ho fatto un po' anche l'osso, perché ne ho persi tanti. Ne valeva la pena? Io penso di sì, perché in fondo la passione della montagna, della natura, dell'avventura, di quello che la natura ti può dare, quello che ho vissuto io nella mia vita, mi ha sempre dato la forza di ritornare lì, perché era la mia vita, era la mia passione. E quindi ne è valuta la pena. Quindi tu nel 1975 diventi guida alpina, poi diventi sempre più professionista. Qual è la prima grande vetta che affronti? Importante, la prima grande spedizione. Ma forse la prima grande vetta, potrei dire, la prima grande spedizione è stata nel 1980 ed era la prima spedizione in Malayana in inverno. Il Nepal aveva dato quattro permessi, c'erano i francesi, noi che erano una spedizione italo-svizzera, e poi c'erano gli spagnoli e i giapponesi. Mi ricordo che ci siamo trovati a Kathmandu tutti assieme, nel bar frequente di Kathmandu eravamo 36 alpinisti, ed era il primo anno che il Nepal apriva le spedizioni malayane invernali, voleva dire andare a affrontare temperature di 60-70 grai sotto zero, o 8 mila metri. Quindi era un'incognita per tutti gli alpinisti che erano lì. Noi siamo tornati tutti dalla nostra spedizione, non abbiamo raggiunto la cima, io ho raggiunto 7500 metri a 60 grai sotto zero, però dei 36 ne mancavano 12. Quindi la montagna, tante volte, ha un daccio grandissimo da pagare. Vuoi chiedere qualcosa su questo? Perché lascia toniti, eh? Anche perché immagino, corregimi se sbaglio, i materiali non sono certamente quelli odierni. No, basti pensare che negli anni Ottanta noi avevamo delle scarpe fatte apposta per noi, ma pesavano 7 kg. Oggi pesano un chilo e 600 grammi. Tanto per dirne una. Uno sviluppo tecnologico. Ma questo sviluppo tecnico, tu reputi che sia anche grazie a voi? Assolutamente. Tu che poi hai lavorato per tanti anni. Assolutamente. Lo sviluppo tecnico. Io devo dire che è stata una delle mie grandi passioni, ho sempre avuto la passione per il materiale, quello che mi ha fatto avvicinare anche dopo la mia attività, che oggi conduce mio figlio. Ma comunque sono stato creatore e collaboratore tecnico per la ditta scarpa, che tutti conoscono probabilmente, per 30 anni. E lo sono ancora oggi, un po' tuttora, quando hanno dei grossi problemi, mi chiamano, vieni giù, che abbiamo un problema tecnico da risolvere. Quanto tempo era il lavoro di preparazione di una spedizione di questo livello? E quante persone eravate complessivamente? Ma a quel tempo, quando ho cominciato le spedizioni grosse, potevano essere anche di 20 persone, cioè, ne cito una, la prima spedizione al Pumori ticinese, eravamo comunque in 12 o 14 persone e c'è stato un anno e mezzo di preparazione per la spedizione, per il materiale, per tutto. Poi piano piano si fa l'osso e quindi ci si abitua. E nasce la spedizione dell'81, il primo 8000 svizzero in stile alpino, l'abbiamo fatto noi. veniva da Ticino, Tiziano Zunt è sottoscritto, partono da Lugano e salgono il primo 8000 in stile alpino che è stato fatto in Svizzera, siamo poi stati invitati a Berna per il primo ed era il terzo a livello mondiale. Quindi lì è nato lo stile alpino in Himalaya che è ancora tutta un'altra storia che le spedizioni di vecchio stampo come si facevano una volta. Ecco, io non so, immagino che il pubblico, essendo eccezionali scalatori, vi sia chiaro, io la domanda te la faccio. Spieghiamo cosa vuol dire stile alpino visto che poi è anche diventato il nome di una tua attività. Allora, stile alpino vuol dire fino agli anni, direi, 78, poi c'è stato Reinhold Messer che ha cominciato lui a dire il vero, a fare... Prima di lui c'erano stati già gli italiani che erano saliti il Tiridmir nel 77, non è un 8000 ma era un 7800 metri, quindi una montagna incredibile, grandiosa, e calcagno genovese sale per primo in stile alpino. Stile alpino vuol dire che fino agli anni 80 le spedizioni erano fatte da 20-30 persone con gli scerpa, c'erano i campi costruiti, faceva il campo 1, campo 2, campo 3, si mettevano le corde fisse, poi si saliva al campo 1, si scendeva, insomma, era tutto un meccanismo come la prima salita a level nel 51, nel 53, nel 54, quella degli italiani al campo 2. Negli anni 75-80 nasce lo stile alpino, nasce la sfida, la nuova sfida in Himalaya di salire un 8000 come si va a fare la via Idra. E da lì, insomma, ci sono state veramente tutte le nazioni che si sono avvicinate a questo stile. Primo è Reinhold, che sale un 8000 in stile alpino, l'Iden Peak, che è un 8035 nella valle del K2, nel Caracorum, e poi il secondo era dei francesi che hanno salito il Broad Peak, che però dopo hanno smentito perché non erano arrivati proprio in cima. E poi ci siamo noi che siamo partiti da Lugano e il vero stile alpino cosa vuol dire? Che tu parti, tu col tuo amico, vai al campo base e da lì non c'è più nessuno, bisogna salire da soli. Cioè, devi portarti la tenda, non c'è ossigeno, non ci sono corde fisse e quindi è un isolamento totale. Pensando al mio primo 8000 in stile alpino, noi eravamo stati al campo base fino a 25 giorni dove i portatori sarebbero venuti per sbancare di nuovo e tornare a casa e noi eravamo saliti a 6400 metri e con Tiziano dico senti, lasciamo andare a casa perché avevano tre amici che ci avevano accompagnati fino al campo base e quindi lasciamo andare a casa loro e noi facciamo un ultimo tentativo. E siamo partiti per praticamente tentare di nuovo questo 7000 che gli altri non c'erano più. Abbiamo lasciato un po' di cibo al campo base e abbiamo detto tentiamo e siamo rimasti sette giorni sulla montagna andate e ritorno e lì eravamo completamente isolati perché nel giro di 300 chilometri non c'era più nessuno. Quindi era l'isolamento totale ma anche proprio una sfida che era un contatto con l'amico che hai che poi tra l'altro ci si incorda poco perché almeno se ne cade cade solo uno è un po' difficile da dire ma comunque è una sfida che diventa proprio tra te e la natura e te stesso ed è stata una storia che ha fatto anche un po' la storia che poi nasce lo stile alpino che è Rarloretta è stato uno dei promotori che è andato avanti e ne ha fatti tanti anche amico che abbiamo scalato anche tanto insieme. il tuo percorso di montagna a un certo punto incontra anche il mare sì direi che perché questo secondo me è un'altra un'altra delle vicine quando ho letto la tua biografia perché ho chiarito con te non so se a voi sarebbe venuto in mente ma se noi immaginiamo un uomo che ama la montagna non l'avrei immaginato poi invece anche in barca ma il pensiero del mare l'ho sempre avuto perché in fondo quando io leggevo libri come quelli di Montissier di Bernard Montissier che è il primo uomo che ha fatto il giro del mondo in solitaria senza scalo e lui tra l'altro era molto bravo anche a scrivere quando leggevo questi libri mi sono sempre un po' anche detto ma chissà che bello che deve essere insomma la storia data e poi un giorno incontro un amico che si chiama Skip Novak che lui è chiamato il re di Kaporn ha tanti viaggi nell'estremo ghiaccio e nell'oceano pacifico e atlantico il Dregla l'ha cavalcato tante volte e da lì nasce un po' questa amicizia lui era se vuoi interessato molto alla montagna anche avventuriero era incuriosito io incuriosito dal mare e assieme mettiamo assieme un po' le idee e siamo andati in Antartide a scalare cioè partendo dal Sud America mi sembra giusto bravissimo sei un giornalista che io ho sempre apprezzato per la vivacità e la rapidità però vi anche tu emozione mentre lui narra questa cosa è affascinante quello che racconta cioè siamo in un'altra dimensione qua entriamo in un altro mondo addirittura mentre parlava prima mi domandavo se quando ci sono questi momenti di isolamento dove sei da solo con un'altra persona 6, 7, 8 giorni 24 ore su 24 se c'è il tempo anche per comunicare per parlare di cosa parlate in quel momento cioè io sono uno che parla anche quando dormi probabilmente mi domando se troverei la forza di parlare o di trovare degli argomenti oppure se sono se ricordate la casa gli affetti cosa succede in quei momenti ma io devo dire che quindi faccio l'esempio di due amici che ho scalato parecchio assieme uno è Tiziano Zunti che è stato il mio primo compagno dell'Ottomila ma poi ecco uno che probabilmente tutti conoscono Erard Loretta è stato per 25-30 anni un amico del cuore col quale ho scalato parecchie cose e per esempio con Erard noi non si parlava mai cioè racconto un aneddoto siamo andati in Antartide dove eravamo partiti per fare questa parete di 3.000 metri che io avevo visto nel 1993 avevo accompagnato un cliente in cima alla montagna più alta dell'Antartide a 60 grai sotto zero e quando sono tornato ho visto questa parete di 3.000 metri ho detto qui ci devo tornare con Erard torno a casa mettiamo assieme la spedizione lo invito il progetto era mio lui entusiasta in Antartide non era mai stato siamo partenti arriviamo a Ushuaia in Cile e praticamente lì c'è il volo che ti poggia sul continente antartico che vola solo se il tempo è perfetto e quindi abbiamo aspettato 15 giorni io ho dovuto rientrare e dico senti tu sei talmente bravo la parete è quella lì abbiamo pagato l'aeroplano abbiamo pagato l'organizzazione vai da solo che la farai e quindi lui parte da solo e sale questa via incredibile di 3.000 metri facendo una cosa che non era mai stata fatta in Antartide assolutamente una cosa incredibile e io ero invidioso naturalmente perché lui le naie mi sottacca e due anni dopo dico senti ci torniamo tu ripeti la via io ti faccio il film e così è stata e ho portato la mia moglie con me al campo base e quando abbiamo salito che siamo arrivati in cima alla montagna siamo stati siamo partiti dicendo a Anna stiamo via 4 ore per fare le prime immagini e poi era talmente bello e ci siamo persi non parlando abbiamo scalato di nuovo la parete io filmando lui e lui facendo tutte le posizioni che gli chiedevo è nato un film dove sono nate forse le più belle immagini della mia vita dal punto di vista camera perché tra l'altro mi piace anche fare un po' di film e era il giorno di Natale ci siamo persi e siamo stati via 48 ore senza accorgersi che il tempo era passato senza mai dormire naturalmente mi hanno fatto due volte il tè e quando sono tornato l'Anna era nella tenda ed era disperata perché ormai non tornano più e io cantavo Feliz Navidad quando ho aperto la tenda me ne ha dette di tutti i colori mi ha minacciato di morte una santa donna non è vero? no o sarebbero venuti a prenderla chissà che ansia comunque ecco questa è un po' la montagna è fatta così e con Nerard durante queste 48 ore di scalata forse abbiamo detto dieci parole non lo so non mi ricordo più ma comunque Romolo è irrequietezza o ricerca costante di un sogno tutto quello che hai fatto? ma io direi che nella vita bisogna sognare se no chi non sogna non ha non ha curiosità non ha spirito non ha voglia di scoprire qualcosa sognare sognare hai sognato in grande però hai sognato bello in grande sì d'altronde la televisione della svizzera francese ha fatto un film su una parte della mia vita il film si chiama il cassetto dei miei sogni che tra l'altro passerà di nuovo alla televisione svizzera italiana al 5 di dicembre e devo dire che il cassetto dei miei sogni sono proprio i sogni che non sono stati realizzati ma erano sogni il cerotorre che io ho sognato per tutta la vita ho tentato di scarrarlo tre volte non sono mai arrivato in cima e questo rimane un sogno nel cassetto che cosa aveva questa montagna di così speciale e che cosa non te l'ha fatta prendere allora il cerotorre è una delle più belle montagne del mondo dal punto di vista estetico poi la Patagonia ha un'atmosfera di avventura che solo lì si può vivere ancora forse di più che in Himalaya perché è talmente cruda il vento la natura lì è diversa ancora che l'Himalayana nell'Himalaya si può prevedere lì è difficile e il cerotorre è talmente bello che ci si innamora un po' di una cima e nell'83 ero stato con Pedrini e siamo arrivati a sarebbe stata la prima salita in stile alpino del cerotorre nell'83 siamo arrivati a 60 metri dalla cima abbiamo dovuto tornare e poi è rimasto lì e sono tornato nell'85 quando lui lo scala in solitaria Pedrini e io ho tentato il cerotorre dalla parte del ghiacciaio dell'Hielo Continental assieme a un amico col quale però si rompe una mano e non abbiamo potuto congiungersi sulla cima anche se le condizioni della parte dell'Hielo Continental erano troppo difficili e troppo pericolose e poi sono tornato nell'inverno a 60 anni conerare l'età e siamo stati per 40 giorni nell'Hielo Continental senza vedere la cima ed è stata una battaglia e quindi da poi da lì ho detto forse non mi vuole e sono tornato a casa Senti ho letto una autobiografia che sei anche andato a riprendere molte persone in difficoltà hai partecipato anche al recupero di persone in talunni casi ecco si è capitato di dire a te stesso che queste persone non avessero rispettato la montagna non avessero considerato il rischio che fossero state avventate o ti sei più delle volte che scontrato semplicemente col caso col fatto col destino bisogna dire che ci sono tanti incidenti in montagna che sono incidenti per poco rispetto e poca conoscenza del territorio poi purtroppo ci sono anche le tragedie fatte da professionisti che quelle purtroppo possono arrivare per un cambiamento di tempo soprattutto dal punto di vista della natura che ti impedisce però direi che oggi come oggi per esempio io trovo che lo sci alpinismo è una delle attività più belle ma anche più pericolose che esistono anche sulle nostre Alpi e lì devo dire che tante volte si vede anche tanta incoscienza senza farne nomi né segno ma succede anche troppo poco direi incidenti a seconda di come si muovono perché la neve non la si conosce mai abbastanza neanche noi professionisti non arriveremo mai a dire lì è sicuro la neve è pericolosa tu hai la sensazione che ci sia stata un'eccessiva spettacolarizzazione della tua passione negli ultimi anni e che quindi questo abbia portato anche molte persone a appunto non rispettare il limite perché io credo che il segreto che tu sia ancora qui non è solo il coraggio l'ardimento l'avere avuto la voglia di sognare oltre ma anche di fermarsi prima ma è chiaro sì questo è vero però io ne ho discusso parecchio soprattutto con Eracoli quale ho fatto veramente tante cose negli ultimi anni assieme e dicevamo tante volte noi siamo un po' come dei camuci che si annusa quando non si deve più andare avanti lo si sente no? e quindi tante volte è proprio l'istinto che bisogna sapere ascoltare e di dire ok più in là non va bene e questo ti salva tante volte la vita il non fiutare tante volte può costare caro ti ricordi una volta in cui con chiarezza questo ti è accaduto magari anche immagino con dispiacere rammarico un po' di rabbia magari ma hai trovato comunque la forza di dire no sì per esempio il Macalù che è stato per me la montagna che mi ha la spedizione d'inverno nel 1980 ci torno nell'82 e nell'82 erano dire andiamo a scalare il Macalù su una via nuova in stile alpino era una cosa grandiosa era l'alpinismo del momento degli anni 80 e con Troye facciamo una via dopo 30 giorni in quota sopra i 6500 metri eravamo diretti su uno sperone troppo difficile per due tentiamo una via nuova e la scaliamo fino a 8250 metri a 200 metri dalla cima e poi lì Troye che è stato poi un grosso alpinista che ha fatto 8000 era un po' e lì discutiamo io dico magari vado in cima da solo poi lui si mette lì e quando mi stacco da lui 50 metri dopo lo vedo giù seduto nella neve ho detto ma se io vado su quando torno non lo trovo più e lì siamo tornati tutti e due e poi sono tornato nell'84 e ho poi raggiunto la cima fortunatamente Tu Aramis durante la via Idra hai provato la sensazione di dire no adesso basta è troppo No questo no però ci sono state queste tappe nella via Alta della Verzasca che a un certo punto erano davvero impegnative perché arrivavamo da 6 giorni comunque dove tutti i giorni dovevi abituarti a dormire in capanna con tante persone comunque non è siamo abituati non dormiamo tutti i giorni con altre persone c'è insomma vari rumori durante le notti in capanna che non ti lasciano proprio dormire in modo beato e sereno e quindi allora ti devi organizzare con i tappini Daniele infatti dopo due notti quasi insonne mi era prestato i tappini ho cominciato a dormire e allora lì riesci anche a recuperare le forze e ti presenti il giorno dopo ti presenti in buone condizioni però diciamo che non abbiamo fatto un'impresa epica per me è stata una bella impresa nel senso che non l'avevo mai fatta e quando ho finito la via Idra l'ultimo giorno ho detto domani non la rifaccio questa comunque lui tornando invece probabilmente diceva quando riparto per tornare su e io invece ho detto adesso ho bisogno di un po' d'acqua o un po' di mare o comunque una situazione un po' diversa però è stata un'esperienza sensazionale che rifarei dopo un po' di tempo ho detto adesso mi piacerebbe ritornare mi piacerebbe poterla rifare poi adesso comunque un po' di allenamento l'ho fatto e allora potrei ripeterla che cosa ha fatto deciderla RSI di dare uno spazio a un progetto così bello che abbiamo apprezzato tutti cioè come a parte credo l'intuizione del tuo regista è stata una sua idea lui comunque era in contatto con i tre ideatori della via Idra Giorgio Matasci Giovanni Galli e Giorgio Valenti era in contatto con loro poi dopo ha deciso insieme a loro ma lui era da anni che aveva queste idee poi sicuramente avremo modo di sentirlo nel dettaglio però era da anni che aveva questa idea poi ha chiesto a me se volevo condurla e alla fine accettato era una cosa nuova comunque perché comunque la RSI è un prodotto di questo genere anche se c'erano stati tanti anni di Romano Venziani esatto di Venziani che aveva comunque aperto una nuova strada questo era un nuovo prodotto autentico dove si vedevano le emozioni dubbi le perplessità e dove comunque si scopriva il nostro territorio negli aspetti che vi abbiamo presentato dal geologo comunque alla pastorizia abbiamo cercato di toccare vari argomenti e proporli così probabilmente hanno visto che il prodotto era un buon prodotto e hanno deciso di metterlo in prima serata è stato un successo forse anche inaspettato perché io la prima volta lo facevo e lui così un lavoro di questo genere era la prima volta che lo produceva perché alla fine il produttore è stato lui dall'inizio alla fine quindi c'è un proseguo giusto? quest'anno c'è stata una nuova via un po' più faticosa meno tecnica meno aerea che verrà presentata ancora a Natale una cosa un po' diversa con una presentatrice giovane che ci stava comunque e che era giusto far provare a una ragazza che fa la giornalista amante della montagna che è Alice Bedrazzini era giusto far provare a lei questa nuova situazione anche per per dare nuovi stimoli è un volto diverso da quello che c'era stato l'anno precedente ticinesi popolo di camminatore di montagna alpinisti arrempicatori secondo te grazie anche a persone come te che evidentemente hanno portato un livello altissimo in un cantone di 300.000 anime io personalmente penso proprio di sì cioè in fondo quasi tutti i ticinesi hanno un pensiero verso la montagna e io questo l'ho scoperto nel 1978 quando abbiamo ideato la prima spedizione malayana ticinese che era il Pumori dal quale è nato anche un libro poi ed è stato a parte la grossa disgrazia di aver perso il medico durante questa spedizione al quale dedico ancora un pensiero devo dire che lì i ticinesi tutto il ticino aveva dimostrato in fondo anche a noi che andavamo per la prima volta in Himalaya a cercare di scalare una bellissima cima ci avevano aiutato noi avevamo fatto la cartolina e con le cartoline comperate dai ticinesi da chi amava la montagna in Ticino abbiamo tirato su 60.000 franchi erano tanti soldi nel 1978 e hanno aiutato anche il successo di questa spedizione ma io penso che con tutte le montagne che abbiamo in Ticino quasi tutti che ci sono in questa sala sicuramente sono andati a fare qualche cima in Ticino e quindi i ticinesi sono legati al mondo della montagna e anche questo che in fondo la via Idra e questa trasmissione ha avuto un grande successo perché è seguita da chi ama la montagna mi riconosco molto nel quasi però l'è seguita assolutamente no l'ho trovato veramente un prodotto televisivo straordinario perché io che vengo dal mondo della televisione da un'altra parte ho trovato coraggioso che una televisione avesse il coraggio di mettere in un prime time un prodotto di questo genere che poi è stato premiato dall'audience questo perché tutti quelli che raccontano che la televisione deva per forza fare prodotti di battaglia commerciali vengono smentiti per esempio da successo invece di un prodotto che immediatamente dopo il telegiornale la meteo ha tenuto incollato un sacco di ticinesi perché era un gran prodotto e questo veramente merito a chi lo ha ideato davvero davvero io ho una domanda scomoda da farti molte persone sono scomparse nella tua vita durante la tua passione si riesce ad andare avanti per egoismo o in fin dei conti sono caduti che avevano scelto la passione questo te lo dico perché in un altro mondo in cui io lavoro che è la Formula 1 adesso ovviamente meno ma nei tempi passati di piloti che scomparivano e poi si risaliva in macchina è la storia di uno sport certo in tutto caso nel mio caso è un po' la stessa storia perché in fondo io ne cito due Marco Pedrini il quale appunto c'era la prima scalata al cerottore e scalavamo per la prima volta il Fitz Roy in stile alpino nel 1982 era a loro età che per me è stato più che un amico era un fratello però purtroppo penso che tutte e due se ne sono andati io ce li ho nel cuore Ulistec che purtroppo non c'è più ma era un figlio per me lui non ha mai fatto nessuna spedizione senza venire da me a consultarsi e a montare il suo programma e la sua spedizione anche l'ultima noi eravamo al campo base con Anna quando purtroppo se n'è andato però penso che erano tutte delle persone che hanno fatto la montagna perché ce l'avevano dentro e chi ha dentro la montagna non può star lontano dalla montagna anche se perde un grande amico purtroppo lo ritrova sulle altecine tu hai qualche cosa che avevi voglia di chiedere io ho ancora due domande per Romolo però so che tu mi avevi detto che anche tu eri curioso di interagire con lui domande che volevo fargli le ho fatte forse ce n'è ancora una che aspettavo proprio l'ultimo momento ma vorresti una seconda vita per fare quello che non hai fatto no assolutamente no io devo dire che devo essere sincero se non c'è una seconda vita perché non penso che ci sia ma comunque la rifarei uguale a quella che ho fatto perché l'ho vissuta in completa libertà e ho avuto la fortuna di essere libero anche nel mondo nel mondo del lavoro in fondo ho sempre fatto dei lavori a parte qualche piccolo pezzetto della mia vita dove ho sempre potuto creare anche dove ho potuto lavorare e questo è una gioia e quindi rifarei esattamente quello che ho fatto fino a oggi grazie Romolo tu hai poi preso anche una piega commerciale professionale nel senso che sei diventato consulente di scarpa ma anche di altre aziende c'è davvero una trasposizione tecnica dall'esperienza sul campo al prodotto sicuramente sicuramente perché in fondo se devi avere la fortuna io per esempio parlo di scarpa perché con la dita con la quale ho collaborato di più o ancora oggi collaboro dal punto di vista tecnico quando hanno bisogno mi chiamano e vado ancora volentieri in azienda però se hai la fortuna di trovare un produttore che ti crede e che ti lascia man libera tu riesci a creare cose che hai vissuto sul campo quindi le scarpe che pesavano 7 kg nel 1980 oggi pesano 1,7 kg e tengono forse più caldo di quelle di allora e quindi questo l'abbiamo creato insieme con della gente che ha creduto in te e della tua esperienza che hai potuto provare sul campo e poi il fatto di poter partire in montagna con delle cose che tu hai collaborato a fare è ancora una gioia più grande e quindi questo penso che sicuramente ha portato molto nel mondo dell'alpinismo guardiamo le prime piccozze erano piccozze dove si doveva tagliare lo scalino per poter salire oggi ci sono delle piccozze che facendo così rimangono agganciate come due arpioni al ghiaccio quindi tutta l'evoluzione del materiale ha fatto sì che Uli Stecca ha scalato la Nord Lager che è comunque sempre una grandissima parete rispettata da tutti gli alpinisti del mondo in 2,40 euro con gli attrezzi di oggi e la leggerezza di oggi correva su lui Giovani cosa hai passato a loro che cosa fai con loro che cosa rappresentano per te ma per me rappresentano tutto in fondo io trovo che chi ha potuto vivere delle esperienze come le mie se non le dà ai giovani sarebbe una cosa grave e quindi io ho sempre avuto al mio seguito veramente tanti giovani ho sempre cercato soprattutto visto che ho avuto la fortuna di collaborare con dei produttori ho cercato di aiutare sponsorizzando dei giovani che erano le speranze e che facevano delle cose che io non sono mai stato capace di fare e quindi ecco il contatto con i giovani è praticamente è come quando ti nasce un nipotino che la tua vita si prolunga se hai un giovane dietro di te che fa delle cose che tu sognavi e che tu non hai potuto fare è una cosa bellissima quindi il contatto con i giovani penso che sia la cosa più importante per un alpinista che è vera la nomea di cui godi che oltre ad aver fatto fare molta fatica i tuoi compagni d'avventura li hai massacrati cantando? Sì vabbè a me è sempre piaciuto cantare ma adesso non si canta più nelle capanne è sempre stato bello anche quando si andava in montagna soprattutto quando ero giovane la cosa era ritrovarsi a mezzogiorno fare una cantata e ripartire a rampicare oggi non si canta quasi più però cantare è molto bello bellissimo volevo chiudere per poi dare finalmente spazio al pubblico che secondo me avendo dentro molti appassionati avrà parecchie domande da farti credo e farvi volevo chiederti se tu fisicamente hai provato che davvero climate change il cambiamento climatico stia veramente colpendo le nostre montagne al di là della retorica o di certe ragazze bruttine che dicono cose terribili ma probabilmente giuste come Greta ma che ci sia un cambiamento dal punto di vista climatico lo vediamo tutti soprattutto chi va in montagna che vede un po' come era basta guardare i nostri piccoli ghiacciai che abbiamo in Ticino come sono ridotti e poi l'approccio alla montagna oggi non è più lo stesso noi trent'anni fa le pareti nord delle Alpi le scalavamo al mese di giugno o mese di luglio o magari anche inizio agosto oggi è impensabile di toccare le pareti nord delle Alpi d'estate perché è un fiume di sassi o di scariche che scendono e questo è dato dal clima quindi le pareti nord come l'Aiger come la nord del Cervino come dicevo prima si scalano d'inverno per chi vuole andare a farle e quindi il cambiamento climatico esiste e purtroppo dà anche dei grossi problemi dal punto di vista alpinistico ma questo non solo qui ma anche in Himalaya e in conclusione prima delle domande se riguardi la tua vita provi a immaginare di essere un elicottero che prende il volo e ti osserva da quando papà ti faceva scarpinare dodici ore a questa sera qui in cui hai delle persone di fronte che cosa ne pensi della tua vita della mia vita? certo sono felice della mia vita è stata una vita bellissima una vita anche piena di emozioni di momenti di sofferenza però come ho detto prima vivrei di nuovo la mia vita come l'ho vissuta fino ad oggi grazie credo che tanto meriti nei nostri due un applauso e ringraziamento ora rammento anche che per i tipi di fontana edizioni è uscito il libro giusto della vostra che credo forse questa sera ne abbiamo qualche copia qui credo sì sì ci sono perfetto quindi questo programma è qualcosa che entrerà sempre di più nella nostra vita adesso è il vostro momento naturalmente in covid free quindi ogni volta non vi preoccupate sterilizziamo il microfono tranne dovesse usarlo mia suocera in quel caso non lo sterilizzo però se c'è qualcuno che vuol fare una domanda preghiamo di alzare o abbastanza voce non usiamo il microfono se no usiamo il microfono vediamo chi ha voglia di rompere il ghiaccio tra i presenti se c'è qualche domanda che volete rivolgere al nostro pubblico mi raccomando non fate i timidi Fabio ragazzi lo facciamo microfono voce libera microfono in arrivo il microfono chiaramente ci stiamo organizzando per la valletta Fabio rissa finale rissa finale rissa finale la domanda che voglio fare sono due forse le domande che voglio farti Romolo la prima mi interessa sapere chi è per te il più grande chi è stato il più grande o chi è il più grande alpinista di tutti i tempi lo so che è una domanda difficile ma dal tuo punto di vista secondo i tuoi parametri chi secondo te è stato il più grande la seconda invece è un po' più forse un po' più impegnativa ed è ho visto poco tempo fa un documentario su una salita all'Everest dove ho visto una fila di persone impressionanti che mi ha devo dire mi ha turbato perché come immagino io la montagna non ho mai scalato cime di questo tipo io immagino la solitudine ho visto dei bellissimi documentari dove veramente regna la solitudine e vedere queste persone come le formiche che cercano di raggiungere la cima per me è una deriva dell'alpinismo come la vedi tu questa tendenza che è sempre più in atto ecco allora per rispondere alla prima domanda direi che gli alpinisti bravi che io amo che ho amato e che ho nel cuore ce ne sono più di uno se devo pensare al mio cuore direi che dobbiamo dividerli in epoche per me Riccardo Cassin per esempio è stato un grandissimo però fa parte dell'era ancora due generazioni prima di me e poi se guardiamo proprio come alpinista completo il quale ha smesso troppo presto di scalare le montagne perché era un caratteraccio e ha litigato con il mezzo mondo era Walter Bonatti Walter Bonatti per me è sicuramente forse il personaggio e l'alpinista il quale ho un grandissimo rispetto ed è stato per me il più grande alpinista che è stato di tutti i tempi direi anche paragonato ai tempi di oggi con i giovani come Uli che hanno fatto anche cose diverse però Bonatti dobbiamo pensare che nel 1965 smette ed aveva 45-50 anni quindi 45 anni mi sembra e quindi avrebbe potuto essere il primo a fare tutti gli 8000 aveva le attitudini la capacità e l'idea e quello che ha fatto Walter Bonatti è stato grandioso per me sicuramente è forse l'immagine alpinistica più bella che ho nel mio cuore per la seconda è una domanda un po' un po' così in fondo tutti quelli che vanno in montagna che pensano di scalare che cominciano hanno questo desiderio di andare in Himalaya a scalare un 8000 e lì è nato un po' il commercio degli 8000 metri oggi purtroppo è attuale e devo dire che a me non fa parte dell'alpinismo cioè può organizzare che può arrivare uno al campo base che atleticamente è veramente ben preparato dal punto di vista atletico magari si mette i ramponi all'incontrario e lo portano in cima all'Everest questo non è più alpinismo non fa parte dell'alpinismo sono desideri di gente ben allenata e ben formata che vuole fare un 8000 e scalare un 8000 personalmente non lo condivido però esiste e quindi dobbiamo anche accettarlo io non ho mai cercato di scalare un 8000 l'unico 8000 dalla via normale è stato il primo che però comunque era la prima volta che si scalava senza ossigeno ed è stata la prima camera mondiale in due persone in cima a un 8000 e poi invece il Makaluda una via nuova questa è la ricerca dell'alpinismo quindi l'alpinismo himalaiano così di commercio è un commercio come un altro che non condivido grazie prego se c'è qualcuno che ha ancora una domanda dalla sala ecco abbiamo una persona dietro grazie con la maglia blu arriviamo è finita lì la domanda è una domandina non avete impegni per cena è una continuazione la domanda è se pensi che ci sia una vita sola voi siete liberi per cena immagino bene ma come ho detto prima io personalmente penso che ci sia una vita sola perché purtroppo ho perso troppi amici che tenevo di cuore non sono mai tornati a raccontarmela quindi penso che ci sia una vita sola se dovessi poi però nel buddismo si dice che si ritorna in altra forma e tutto il resto speriamo ma se torno spero di fare una vita libera come ho fatto come questa qui e questa è la cosa più importante io devo dire ho vissuto una vita in piena libertà e questo l'ho detto prima e lo ripeto ed è la mia gioia che ho dentro prego allora io vorrevo chiudere con una informazione di servizio un anno difficile per un giornalista sportivo come te immagino questo senza olimpiadi senza europei volevo dedicarti un minuto a quello che è la tua passione no è stato un anno difficile perché fino all'ultimo si pensava di poter comunque partecipare a questi eventi fide conti che tu hai rinunciato però abbiamo approfittato per vedere un po' di più le mogli la mogli perché non ne ho più di una scusate ma stavo parlando a plurale anche per lui la moglie e i figli perché solitamente noi tra inverno e estate non è che stiamo molto in casa infatti stavo pensando a lui come si può conciliare una vita come la sua io che ho due figli una femmina e un maschio come si può conciliare una vita come la sua e fare anche il papà e far crescere i figli immagino ci sia sempre a casa una donna santa come la mia che si occupa di tante cose comunque la donna santa ce l'è anche adesso però viene spesso con me quindi tanto meno vorrei dire una cosa abbiamo trattato diverse cose però c'è l'alpinismo professionista è una cosa la guida alpina è un'altra cosa sono due cose completamente diverse quando si va in montagna con un amico per salire una cima che non è il cliente o l'amico cliente perché io non ho mai avuto clienti o quasi sempre avuto solo amici clienti è una cosa di libertà totale dove con l'amico si ha un rapporto di reciproco rispetto ma nello stesso tempo di reciproco nel senso che non si è protettivi uno con l'altro sappiamo esattamente quello che si arrischia mentre quando si va in montagna con un amico cliente e qui vedo giù in fondo per esempio quel signore là con gli occhiali è venuto in montagna con me sia in Himalaya che in Patagonia quando si fa la guida bisogna andare in montagna per chi accompagni e quindi la gioia la tua gioia di alpinista è quella di vedere il sorriso di quell'altro che tu hai accompagnato e questo è molto importante le guida alpine dovrebbero fare la montagna così io devo dire ho condotto credo una trentina di sessi incontri ma voglio veramente ringraziarvi spero che anche l'applauso lo farà perché è stata una serata emozionante vera viva è stata una scalata per me intervistare voi due ma devo dire ci avete regalato veramente una grande emozione molti complimenti a voi per quello che state facendo e a voi per quello che produrrete e vabbè tu sei veramente l'energia vivente la prova vivente che l'età non è una questione della grafica ma è una questione della mente grazie Romolo Notaris e grazie a voi bravo Romolo grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi